Pasquale, un bravo ragazzo Che nell'ultimo periodo ha smarrito la retta via di Nostro Signore Seguendo personaggi rossi Extraterrestri Ilton, dai, così che va la vita Non essere triste No, è mica peccato, è che pasca la mia vara ancora 20 euro E' morto uno dei tre fuggitivi, il ragazzo di nome Pasquale Il corpo è stato ritrovato nei pressi dell'ex laboratorio Bitfoschi Intanto però le squadre specializzate Non ti preoccupare, tu abituare a morte Pasquale Io ho passato già in questa situazione Lui era importante, era importante come tua nipote Per questo ti abbiamo fatto evadere Per portarci da tua nipote Ma adesso non ha più importanza Ma tu non avrei liberato me per prendere razza Natasha veniva a trovare a me a carcere dopo che ho ucciso padre Ora lei vende le marie dietro il cimitero Ma per cosa cazzo volete da mia nipote? Volete fare esperimenti aliene? No, faceva parte di una cosa più grande assieme a Pasquale Ma ora non ha più importanza Vladimir Promettimi che troverai il razzo E che distruggerai i mostroide Andiamo a prendere cazzo di razzo E che distrugge Abbassare, abbassare, venire qualcuno Signore, per piacere dare qualche moneta a me Io non avere moneta Dare moneta, io mangiare, io poverino Io non avere moneta, batte in H No, signore, dai, dare da mangiare Batte in H No, signore Allora, due metri, brutta storia Un po' capire da nascondere, no? Non essere ricercati, tu capire questo Io non andare d'amico, che portare da razzo Tu aspettare in macchina, che sei tutto scema Uriano! Vlademirio! Uriano! Vlademirio! Uriano! Vlademirio! Uriano, ora basta! Io non avere accesso più il laboratorio di mio fratello, ma perché? Ma perché non sapere tu? Da quando tuo fratello è morto Azienda Tutto è stato acquistato da grande sceico Hamad bin Mohammed E ora qui curo solamente il suo abbigliamento aziendale Uriano, ma come? Io doverei prendere cose molto importanti in laboratorio Io salvare il pianeta A me dispiacere, ma cosa potrei fare io? Deve parlare con lui Dove trovare io ora? Io ora non sapere dov'è Posso dire che però stasera lui va in una grande cerimonia In un ristorante molto lussuoso Ok E ora andare Pendejo, a dove vai? Non ti dica il nome del ristorante Ma che cazzo hai detto? Non ti ho detto neanche il nome del ristorante Dove vai? Ma dove crede di poter entrare così? Ehm 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 I heard they checkin' for me No one checkin' on me So I had to go run up a check I got the message on me Ain't no flexin' on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessing for me My successes only made them envious They got upset I had to put all they eagles in check Alieni, tu aspettare qua, stare nascosto Io andrei a fare cosa in ristorante Aspetta, dare a me una di quelle cose per ammazzare Pistola Sì, sì Se tu premere questo, pistola sparare Quindi questa uccide Sì Va bene, però se tu stai nascosto E non ti farei vedere Tutto a posto, non succede niente, va bene? Io avrei un appuntamento con il bicicco, ma... Impossibile, c'è una cena importante Ma come? Io ho parlato con Giuliana C'è un tizio qua, che la cerca E come ti chiami? Come ti chiami? Tizio! Come ti chiami tu? Io sono grande volante i miei pitufoschi Io sono uno buono Foglio entrare Prego Ok, allora affari fatto, ci vediamo dopo Oh, tu devi essere 10 con un alieno Ma... tu dare a me chiave di laboratorio ex proprietario deve prendere cosa molto importante cosa sarebbe un razzo per salvare il pianeta tu salvare il pianeta comunque non potrei dare il razzo a te perché tu non dato un moneta a me modigliavo la nuova beccara questa è per lei ma io non ho ordinato questa è aperta dal tavolo 9 a passare tutti Vladimir Vladimir tu salvare la pistola e non avere mai madre la mia missione è pallida dov'è l'alieno? dimmela e nessuno si farà male io non avere alieni! non sapere dove essere! io non volere morire! non volere morire! l'alieno ti ha fatto evadere di prigione vuole qualcosa da te si parlava di un certo razzo io salvare te! tu darei ragione a me! ma a me quello non interessa si o no? va bene va bene si! ok avendo piano questa è forza vuol dire vai tu vai? va bene va bene voglio solo trovare l'alieno va bene va bene va bene ! va bene vai Mi dispiace. Oh, cazzo. Ma cazzo d'olire, dove cazzo va? Prendiamo il mio Ferrari e ti porto io, laboratore. Va bene. Figlio mio, tra poco tornerai normale, te lo prometto. Ma dove cazzo sta il laboratorio? Adesso farò vedere io dove sta il laboratorio. Ah, tu lavorare ancora qui? Cazzo qui, questa è mia casa. Ma dove cazzo è, cazzo di razza? E non vedere, eccolo là, razzo. Vladimir ha detto me che essere grande asteroide che stare per cadere su terra. Possibile! Possibile! Tu controllare, così noi lanciare il nostro razzo. Controllare, controllare. Possibile! No, no, possibile. Controlla, andrò un attimo. Ah, però effettivamente c'è un corpo strano che si sta avvicinando alla terra. Vladimir, io ancora non ho detto grazie a te per aver salvato mia vita. Cazzo! Tu non ringraziare un cazzo di nessuno! Io essere qui solo per ricambiare favore alieni! Che se vado a me del gatto! L'asteroide vicino! L'asteroide vicino! Come va? Ma è stato un break! Guarda! Guarda! Lo ormai dall'orario ellorico! Fermatevi! 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 Mi lo ero va a me disper Charlotte! Fermatevi! Fermatevi! No! Fermatevi! Quanto dovere avevi? Io non dovere avere proprio niente Tu sei mia sorellostra Tu hai naso su pancia Dieci Nuove Ocho In questo momento Tu sei una delle due persone più importanti Per la vita stessa Devi venire con me Quattro Tre Due Uno Vai, vago Un'ultima 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 E ora come che zimmavo? Grazie per la visione!